Non lo so, sembra scavato. Sì, infatti questo è un unico pezzo, non ci sono giunture, non ci sono saldature, non ci sono angolature né all'interno né all'esterno. È un anello che è stato realizzato in elettroformatura, che è una tecnica che permette proprio grossi volumi senza avere presi eccessivi. Quindi come vedi è un pezzo unico che scivola sul dito in maniera estremamente confortevole e si ha proprio la voglia di infilarlo e sfilarlo più volte proprio perché sembra quasi di indossare un guanto, un guanto di seta. Ha una lavorazione all'interno particolarmente comoda perché è bombata e questo design all'esterno lo fa proprio assomigliare a una scultura.